Abbiamo fatto 11 battaglie dal Bassovka a Nikolaevka. Dopo aver fatto tutte le battaglie, Don Carlo, che fisicamente oramai era un grottame, stava in piedi peggio di me in questo momento, lo portavamo sempre sulla risca. Lui voleva sempre tornare dopo ogni battaglia sul campo a benedire i morti. E allora ci chiedeva, quando capitava il fame, fatemi un favore, allineatevi tutti i morti in modo che io possa dare a loro la benedizione di Dio con minor fatica. Allora lui, il ginocchione nella neve, noi tiravamo tutti, mettavamo in fila così, e lui, il ginocchione dentro nella neve, diceva, Dio mio, dimmi perché, perché Dio mio questo? Dimmi. Quando si è accorto che noi mettavamo in fila solo gli alpini, ci ha detto, no ragazzi, con quella sua dolce voce, che era come l'olio sulle bruciature. Ragazzi, per favore, allineate tutti russi siberiani che li avevamo contro, tedeschi e ungheresi che li avevamo a pianto, perché qui ci sono solo caratteristiche di Dio. Grazie.